ho bescito il mio forte cerca di non sparare i tuoi compagni caleg ha ucciso caleg caleg ha ucciso caleg com'è fatto alle gente siamo tornati al canino di promenso contigo con questo gioco fantastico vediamo se ne cacciamo qualcosa di utile ammetto sono non ci sta non è collegato cerca di non sparare i tuoi alleati come faccio porca troia per strappo le braccia tece meno c'è come arma no perché ben curate botti dal mortacci dopo no botti in botti in don dan sono il leather mister botti in perché perché non muoiono e chi cazzo è stato il bot jason ma io rispondo che cammina sulla cosa chi è bottorone vabbè non era accattate non è più forse cose 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 le pazienze che perde tempo tanto destro ma quanti cazzo non mucchio ma la mochia ma nella mucchiati tipo 5 capirà mostro tutti la pompa questo ammazzarne 1 c'è qualcosa che non va vengo soltanto ma se dove non va quindi c'è lo spawn la base è sempre la stessa dove rinascono certo e porco sì no ho trovato prima ok vabbè in cane di meno faccio io col fucile a pompa quando ragazzi a tenere via della mia casa io li aspetto qua dietro l'angolo come faccio io che fucile a pompa ma non more 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 tre colpite fucile porca troia cazzo io infila un culo per farlo morire chi è che manco lato io no so dire una donna di il suo figlio di Matteo non si fanno queste cose no a mio fratello ah e allora porco satana satana non è porco ricordatelo chi è molto mai che buongiorno ma che c'è il letto c'è il letto c'è il letto c'è il letto no ma è fantastico ma fa team fagli sparo in testa sul passamontagna per rumore di metal perché è fatto di ferro ma che cazzo c'è da lì il famoso film da lì il famoso film è la maschera di ferro no terrorista acqua sta corcicchino già c'hanno la imbottano mannaggia le quella puttana la tra sozza maia la lurida schifosa maledetta nevate botte che fermi davanti la porta porca pure che cazzo la matosca rispondo ma col fuggito a pompa ma io d'acqua come ne esco per fuggito un po' grande ma da la doppietta no qualcuno la ruota da pure vicino a storia di doppia ma quale uomo cammina scappo si legge a posto regalo non faccio più kill che è il legge sognata è una specie di tagliatrice fissa bellissimo te che non fanno un peggio non sei riuscito facciamo direte si è preso handicappato e sta a porta dietro no voi state a livello arrivato ho capito mi è passato il terrorista davanti che ho staccato la testa mentre spara guarda la madonna se questo schiatta non posso vede quello che schiatta un bot di nero toccasso ma la squadra lontano di chilometro quell'altro io sto in una casa che cazzo ci faccio qua dentro in una casa grazie per averci detto dove sei è stato lui sarà dentro bello certo sono i radar ho preso uno per culo non c'è uno scarica il cazzo per se lo spawn è un nemico ecco è saltato la testa da dietro al sasso lasci fuori mi ha preso mi ha preso mi ha preso hai appena salato alcatra si aveva regalo ancora non faccio non è che con la cosa è io e io stavo razzo no hai finito vita del merda rifacciamo te la mentire ammessata col coltello a partire di cap è arrivato secondo certo dico cioè sei quarto ultimo ho detto io non riusci a fa kill ok questa è andata non so clicchiamo è andata male è andata è andata ma no è andata abbastanza bene su io per essere sega sono arrivato terzo cazzo vuoi ho tutte le botte copreso io per essere sega sono arrivato tu vabbè tu sei stato un po' più coerente Nicola chissà forse alla prossima andrà meglio no non avessi un pochini è andata la prossima è andata la prossima Grazie a tutti